ragazzi chi vuole bene all'Inter mi ha gli esonerati iscrizione al canale gratis e campanellina su questo canale a suo tempo io ebbi il coraggio di dire prendiamo Turam infortunato e lasciamo Correa alla Lazio e chi di voi mi segue dagli dal dall'inizio lo sa io dissi prendiamo Turam infortunato e lasciamo Correa alla Lazio e ad oggi sono fiero di aver pronunciato quelle parole qualcuno ieri mi ha scritto Giuse ma c'è qualcuno che critica Turam nessun interista sano di mente può criticare Turam se non qualche profilo fake fatto il quattro novembre duemila ventuno sono dei profili fake che criticano Turam non gli interisti non le persone normali con mezzo neurone perché Turam lo sappiamo tutti è un'ottima seconda punta sta giocando da prima punta si sta adattando sta imparando ma il signor Turam ad oggi è decisivo in quasi tutte le partite come Lautaro Lautaro è decisivo in un modo Turam è decisivo in un altro perché ieri entra il signor Lautaro Martinez prende per mano la squadra ragazzi datemi la mano siamo tutti d'accordo ma due gol gli serve Turam attenzione Turam gli mette due golle con la palla ha scritto tieni batti un rigore e spingi là dentro li fa il signor Turam due gol attenzione Turam è un fuoriclasse e ad oggi siamo primo ottobre io mi sento di dire che Turam e Lautaro è una delle coppie più forti d'Europa è una delle coppie di attaccanti più forti d'Europa senza dubbio sono perfetti insieme uno migliora l'altro una t uno tira fuori il meglio dall'altro e viceversa sono due calciatori che si stimano e con Turam guadagni i tempi di gioco eh è l'unico che riesce a saltare l'uomo in velocità fa assist fa qualche gol chi si aspetta 40 gol da Turam non ci ha capito nulla dovrebbe guardare i cartoni animati non i calcio Turam non è un bomber non è una Turam è una seconda punta perfetta per giocare con il signor Lautaro Martinez perché ragazzi lo stesso Lautaro non ha mai avuto una partenza bomba così Lautaro Martinez ha questa partenza bomba perché lo hai visto anche perché ieri sera perché ha questa partenza bomba rigore procurato da Turam è un assist un assist da fuori classe Turam sullo zero a zero fa un assist da fuori classe per per Lautaro Martinez esterno di estro salta l'uomo esterno destro davanti alla porta Lautaro Martinez ha dato una palla con riconta giri ma di cosa vogliamo ragionare di cosa vogliamo ragionare Ticus Turam giocatore clamoroso clamoroso giocatore clamoroso Turam Lautaro lo conosciamo Turam è un giocatore clamoroso chi lo ritia deve guardare i cartoni animati non deve parlare di calcio a parte sono quattro profili fake fatti il quattro novembre duemila ventuno e criticano Turam pensate come sono messi questi qui veniamo alla nota dolente la nota dolente vale l'è che Sanchez ha quindici venti minuti nelle gambe i primi minuti bene crea un po' di caos gestisce qualche palla viene un po' giù pusce un po' il gioco ragazzi però eh al a livello di autonomia Sanchez ha venti minuti mezz'ora quindi la cosa che un po' mi preoccupa guardando oltre il muretto è che dietro questi due attaccanti favolosi clamorosi e sono Lautaro e Turam c'è il vuoto ad oggi c'è il vuoto ragazzi non puoi fare a meno di questi due attaccanti soprattutto per come gioca l'Inter non puoi fare a meno di questi due attaccanti e quella l'unica cosa mi preoccupa dovrebbero giocare sempre perché non non sono minima minimamente sostituibili ad oggi vuoi l'età di Sanchez vuoi l'autonomia di Sanchez lo stesso Arnatovic ma anche senza infortunio anche Arnatovic ormai è un giocatore da mezz'ora da un tempo da una partita ogni tanto non sono giocatori che possono sostituire questi due fuori classe in avanti capisci e quella è la cosa che mi preoccupa sappiamo tutti che servirebbe un attaccante eh non serve una laurea però siamo questi quindi andrebbero messi sott'olio sott'aceto Lautaro Martínez e Turam e sperare che vada sempre tutto bene Turam è uno che fa giocare anche meglio la squadra viene giù lega il gioco Lautaro Martínez lega il gioco e fa gol un attaccante clamoroso c'era chi lo criticava due anni fa Lautaro Martínez vogliamo parlare di questo e io quando dicevo ma come cazzo fate a criticare Lautaro Martínez ragazzi ma stiamo fuori di cervello c'era tanti tanti interisti criticavano Lautaro Martínez ragazzi voi lo sapete bene perché sbagliava i gol facili con Turam Lautaro attenzione con Turam Lautaro rischia di fare 40 gol quest'anno stai attento a quello che ti dico perché corre meno grazie a Turam è più lucido sottoporta ha migliorato la postura Lautaro Martínez perché non gioca più lo chiamavano Toro anche perché caricava con garra testa bassa ha alzato la testa gioca a testa alta ma ha un compagno di reparto favoloso Lautaro Martínez ha un compagno di reparto favoroso ieri sera abbiamo fatto un sondaggio sul canale sulla community dove abbiamo detto Turam Lautaro è più forte la coppia Turam Lautaro è più forte di Lukaku Lautaro o di Geico Lautaro addirittura il 65% di voi ad ora dice che la coppia Turam Lautaro è più forte di quella Lukaku Lautaro Martínez poi vediamola alla Roma quanti gol fa Lukaku e vedremo quanti gol arriveranno da quest'altra parte non ci sono problemi quindi ad oggi il miglior acquisto anche perché è arrivato al zero del Niter per come la vedo io è Tikus Turam e io voglio anche il fratello di Turam che Frank Turam detto Franco Turam un animale a centro campo se lo ricordi Davids un Davids di un metro e novanta molto più forte ti dico solamente questo te lo ricordi Edgar Davids quel gobbaccio maledetto con gli occhianini ecco è un Davids di un metro e novanta molto più forte ti dico solamente questo di che friend Turam ciao Inter